Le zone montane coprono gran parte del territorio abruzzese e sono soggette a un lento e graduale spopolamento. Per contrastare e arginare questo fenomeno, la Regione Abruzzo ha individuato e sottoscritto una convenzione con l'area Basso Sangrotrigno, che comprende 33 comuni su cui si intende sperimentare un modello di riequilibrio dei fattori di sviluppo del territorio. Obiettivo dell'iniziativa è favorire la permanenza della popolazione giovane e meno giovane, creando opportunità di sviluppo economico e occupazionale, che puntino su sistemi produttivi esistenti e sulle risorse locali, stimolando anche nuova attrattività del territorio, utile a chi vorrà investire nell'area, valorizzando le risorse e le potenzialità locali, anche in chiave innovativa. Presso il Museo archeologico di Juvanum, nel comune di Monte Nerodomo, capofila del progetto, sono stati illustrati i contenuti della Dote di Comunità. L'intervento Dote di Comunità è un progetto cofinanziato dal programma operativo 2014-2020, POFS Abruzzo, nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Per noi i due pilastri fondamentali, i due obiettivi strategici, sono proprio crescita e occupazione. Il progetto, descritto in sintesi, lo possiamo rappresentare con tre punti fondamentali. Il primo, centralità dei destinatari della Dote, giovani e anche meno giovani. Il secondo è un richiamo alle competenze, quindi accrescimento, rafforzamento delle competenze. Il terzo è approccio strutturato e multi-stakeholder, sono tre punti, tre caratteristiche fondamentali di questo progetto. Centralità dei destinatari, li analizzo punto per punto, individuiamo persone accompagnandole in un percorso molto ben strutturato che li informa, li orienta, li accompagna in qualche maniera in un percorso di crescita, di competenze appunto, di lavoro o di creazione di impresa, andando ad assecondare le loro vocazioni, le loro aspettative, ma anche ovviamente tutto ciò che in qualche maniera può far gioco al territorio, all'area di riferimento. Chiaramente richiamo alle competenze, quindi il mio secondo punto, se parliamo di crescita non possiamo non parlare di competenze, quindi di accrescimento di nuove potenzialità che questi destinatari noi andiamo a coltivare, in modo da farli respirare un'area più innovativa e più specialistica. L'intervento si articola in quattro progetti e al suo interno in tante fasi che partendo dalla selezione dei destinatari promuove e attiva una serie di azioni di politica attiva del lavoro, di informazione e di orientamento, di accompagnamento al lavoro e alla creazione di impresa e ovviamente prima ancora di formazione e tirocini brevi con attivazione, nel caso siano richiesti, di voucher appunto di servizio. Quindi è un approccio molto strutturato che chiaramente presuppone associazioni dei comuni con il comune capofila che è il comune di Montenero Domo, un approccio multisecorder che è di valore perché ovviamente crea sul territorio una sinergia tra tante istituzioni e chiaramente non solo comuni, enti, associazioni che entrano in sinergia piena ma anche il sistema delle imprese perché questi destinatari poi dovranno essere in qualche maniera assunti dalle imprese o creare una loro impresa. In questo approccio strutturato rientra pienamente poi, a conclusione, proprio per valutare complessivamente proprio il valore di questa dote di comunità, rientra poi l'azione diretta che si affianca della regione Abruzzo con incentivi all'assunzione di questi destinatari e per chiudere il cerchio in una maniera ancora più, diciamo, con maggiore valore finanziamento della creazione di impresa con fondo rotativo ex microcredito. Quindi azioni, queste ultime due, che sono di gestione diretta della regione Abruzzo. Quindi questo ci fa respirare un progetto che è estremamente articolato ma anche molto realizzato a sistema. Il tutto, e concludo, al fine di sostenere in qualche maniera quest'area favorendo la permanenza soprattutto dei giovani ma anche dei meno giovani nell'area chiaramente potenziando tutto il sistema produttivo perché lo favoriamo in qualche maniera creando nuove competenze, nuove imprese e chiaramente rendendo l'area ovviamente assolutamente più attrattiva per gli investitori. E poi abbiamo sottoscritto un addendum già nel mese di febbraio quindi di ulteriori risorse. Sindaco Tamburrino, una strategia che coinvolge i comuni dell'area Basso Sangrotrigno. Una strategia d'area che coinvolge appunto 33 comuni e l'area Basso Sangrotrigno è una strategia che abbiamo creato, costruito insieme a Regione Abruzzo e all'Agenzia di Coesione Nazionale e al Comitato Nazionale delle Aree Interne che mira a assicurare un futuro al nostro territorio. Abbiamo individuato a seguito di analisi attente come amministratori quali sono le difficoltà, le criticità e quali sono le prospettive per i nostri paesi. La ruota di comunità si inserisce appunto dentro la nostra strategia che guarda in primo luogo a quelli che sono i servizi essenziali delle comunità a migliorare la qualità e la quantità dei servizi. E quindi parliamo di istruzione, parliamo di mobilità, parliamo di sanità e parliamo di sviluppo. Nell'azione sviluppo si inserisce la ruota di comunità che ha come obiettivo quello di stimolare la crescita e lo sviluppo e di creare appunto impresa. La popolazione interessata al progetto coinvolge 22.000 persone risiedenti nell'area Basso Sangrotrigno. 33 comuni, 22.000 abitanti, una popolazione che tende purtroppo a diminuire, che risente del fenomeno dello spopolamento, uno degli obiettivi della strategia è proprio quello di arginare lo spopolamento dovuto sia all'abbassamento delle nascite ma sia anche alla circostanza che quando si trova lavoro nei nostri bacini di riferimento poi ci si sposta con la famiglia e anche a quello che è lo spopolamento dovuto ai nostri giovani che vanno a studiare nelle città del nostro grande paese Italia e poi comunque non tornano. Conseguentemente ci sta anche un innalzamento della popolazione anziana che quindi supera a dei picchi che arrivano fino al 50% in alcune località della nostra area si attesta mediamente sul 32%. Quindi noi abbiamo disegnato quello che immaginiamo che sia il nostro futuro è stato condiviso dai vari settori dei ministeri interessati che sono quello delle infrastrutture, quello della scuola, quello del lavoro, quello della sanità e anche e soprattutto della regione Abuzzo che poi ha messo fondi aggiuntivi rispetto a quello che abbiamo ottenuto dalla finanziaria 2014 a livello nazionale. Raffaele Trivilino, perché puntare sulle aree interne? Qual è la strategia? La strategia nazionale nasce perché il 66% della superficie nazionale è aree interne che soffre per servizi, per carenza di servizi, per problemi a livello di sviluppo e soprattutto per il problema dello spopolamento. Perché è importante fermare questo spopolamento e quindi ridare aria e sviluppo? Perché tutti i guai che noi abbiamo a valle spesso nascono proprio dal monte cioè praticamente da queste aree che sono poi il presidio territoriale che garantiscono il presidio del territorio e quindi possono garantire il nostro futuro. Questo è il problema nazionale. Chiaramente la nostra area è stata selezionata dalla regione, dal ministero anzi da allora dalla presidenza del consiglio proprio come area pilota perché aveva alcune caratteristiche e perché come dicevano loro aveva avuto un'esperienza in termini di progettualità, di capacità di realizzare progetti sul territorio e quindi di fare sviluppo grazie al patto territoriale, il PIT della provincia diciamo che c'era una storia e quindi noi siamo stati scelti come area prototico. È chiaro che abbiamo affrontato diversi temi, questo è molto importante, quindi i temi dei servizi e poi abbiamo puntato su questa comunità, sul valore della comunità e qui nasce il progetto Dotte di comunità che è determinante perché mira a creare proprio una forte alleanza del territorio e dell'area per dare proprio un valore a questo territorio e cercare di trovare sviluppo, capacità di fare attività, capacità di trovare lavoro in questo territorio e qui perciò nasce il progetto che mira proprio a recuperare 130 persone, fino a almeno 130 persone su cui fare un percorso che è previsto proprio di accompagnamento al lavoro sia come autoimprenditorialità sia come lavoro dipendente. La selezione in corso ha una scadenza, la scadenza è prevista il 20 maggio. Alessia Carrozza, l'avviso è già stato pubblicato. Quali consigli e dettagli tecnici possiamo dare a chi ci ascolta ed è interessato? L'avviso è rivolto a 130 destinatari che saranno equalmente distribuiti nei 33 comuni dell'area individuata, quindi l'area Basso San Grotrigno. La selezione al momento è attiva, è a una scadenza prevista per il 20 di maggio. L'avviso pubblico come la domanda di partecipazione sono perfettamente consultabili e scaricabili sul sito istituzionale, sul portale istituzionale del comune di Montenero Domo. Noi abbiamo attivato anche una comunicazione social proprio per avvicinarci anche a chi utilizza questo tipo di strumento, quindi abbiamo creato una pagina Facebook che si chiama appunto Dote di Comunità Basso San Grotrigno che invito a consultare, quindi a cliccare il mi piace perché è una pagina che noi teniamo sempre aggiornata con quelle che sono appunto le attività che andremo a fare nelle prossime settimane ma anche nei prossimi mesi. 130 i destinatari del progetto della durata di 30 mesi. I posti saranno equamente distribuiti ai residenti privi di occupazione dei comuni dell'area Basso San Grotrigno. Sarà data priorità a soggetti in possesso di almeno di una delle seguenti caratteristiche. Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni. Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito. Aver superato i 50 anni di età. Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico. Essere portatori di disabilità. La cosa fondamentale e importante sono i due requisiti, ovvero la residenza in uno dei 33 comuni dell'area e l'iscrizione, quindi ai sensi del decreto 150 del 2015 all'ufficio di collocamento che va a decretare appunto lo stato di disoccupazione del soggetto. Cosa succede dopo il 20 maggio? Dopo il 20 maggio sarà stilata una graduatoria. Quindi questi 330 soggetti saranno sottoposti ad una preliminare selezione motivazionale, quindi attraverso dei questionari strutturali o colloqui motivazionali che saranno ovviamente utili a cosa? Ad investigare gli obiettivi personali, la propensione a mettersi in gioco e tutti quegli elementi che chiaramente potranno essere utili alla valutazione del destinatario. Il progetto di dote di comunità si esplicherà attraverso due percorsi formativi. Sì, in realtà i destinatari al momento in cui la graduatoria sarà effettiva incontreranno quelli che saranno appunto gli orientatori, gli orientatori che saranno selezionati tramite evidenza pubblica, quindi tramite avviso pubblico. Chi è l'orientatore? L'orientatore è quell'esperto, quella figura che ha il delicatissimo compito di capire quelle che sono le reali esigenze del destinatario, ovvero il destinatario che cosa vuole fare, che strada vuole intraprendere. In realtà ce ne sono ben due. Ci possono essere magari persone interessate a realizzare un sogno nel cassetto, quindi a creare un'impresa, quindi c'è la strada dell'autoimprenditorialità, dell'autoimpiego e quindi potranno seguire questo percorso di formazione prettamente dedicato a questo tipo di attività. Altrimenti c'è chi può benissimo scegliere quello che viene denominato il progetto numero tre, ovvero servizi di accompagnamento, di inserimento al lavoro, ovvero il lavoro di sobordinazione, nel senso che magari ha necessità di rafforzare delle competenze, prendere una qualifica oppure essere inserito all'interno di una specifica azienda e quindi potrà scegliere questo percorso.